ben ritrovati di nuovo su review vado a recensire insieme a voi queste bellissime decorazioni per l'albero di natale sono dei fiocchi di neve per l'esattezza lo acquistati su amazon link in descrizione come sempre allora sono 36 pezzi che vi arrivano in una confezione di plastica non sto qui a farvela vedere e sono essenzialmente di due tipi questa forma e quest'altra forma ne faccio vedere davanti e dietro è la stessa cosa quindi avrete 36 pezzi suddivisi appunto in questa forma e quest'altra forma ci sono poi dei gancetti verdi come vedete di metallo che vi consentono di attaccare le stelle visivamente devo dire che non si notano neanche in totale 36 decorazioni che riescono a ricoprire egregiamente un albero di queste dimensioni come vedete sono riuscito a ricoprire tutto senza strafare e i colori disponibili io l'ho comprati comunque di questo colore oro però sono disponibili anche color viola orchidea così viene definito e poi champagne e se non erro ci sono anche rosa comunque dal link in descrizione potrete guardare i colori e selezionare il colore che più vi piace per questa recensione è tutto se avete domande non esitate a porvele link in descrizione di app